La Puglia è una regione che ha il più grande appeal dal punto di vista turistico in Italia, però ovviamente la Puglia è abbastanza grande, abbastanza vasta e forse certi deficit riguardano l'area di Taranto e della sua provincia che evidentemente dal punto di vista turistico andrebbero potenziate. Ne parliamo con il dottor Patrizio Mazza che è candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista La Puglia domani, fitto presidente. Io non credo che la provincia di Taranto abbia degli handicap rispetto alle altre province sul piano turistico. È una provincia che, almeno come l'ho conosciuta io, quando sono arrivato qui in Puglia era molto dinamica da questo punto di vista. Certo, l'immagine dell'Ilva e del polo industriale ha inficiato un po' questo aspetto, però secondo me se riproponiamo, noi abbiamo un museo meraviglioso, abbiamo dei posti meravigliosi, se riproponiamo nella maniera giusta, anche con la giusta pubblicità da dare fuori, io per esempio penso, io sono nativo delle Marche, c'è una pubblicità spietata sulle Marche dal punto di vista turistico, cosa che non vedo per la Puglia. Quindi valorizzare quest'area geografica che risulta essere centrale, voi pensate la provincia di Taranto che si colloca fra il Salento e il Materano, per cui al centro di un'area geografica ricchissima di Alberobello, è qua vicino, di cose da vedere. Per cui secondo me potrebbero arrivare centinaia di migliaia di persone ogni anno passando di qui, anche forse per un solo giorno, per due giorni, però passare di qui e lasciare qualcosa a questa provincia. Grazie. 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 Grazie.